Oggi ho ricevuto una lettera, una brutta notizia. Mi è venuta una malinconia e la vita è fatta così, basta non prenderla se la va, basta che c'è sto sole, come dite voi, noi diciamo la vita è come la scaletta di lupo l'aio, curta e che ne merda. Ho capito, vabbè io la ringrazio per le buone parole di conforto che vada a dormire. Grazie. 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 Grazie.